Quest'oggi in Abruzzo 94 nuovi casi di coronavirus su 2388 test processati riguardano persone d'età compresa tra i 4 e gli 88 anni. 28 dei nuovi casi fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 10 a quella di Chieti, 22 a quella di Pescara e 29 alla provincia di Teramo, mentre per altri 5 sono in corso verifiche per accertarne la residenza. Non si registrano ulteriori decessi, il bilancio delle vittime rimane a 487. Attualmente in Abruzzo vi sono 1.342 positivi, di questi 117 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 7 sono ancora in terapia intensiva e gli altri 1.224 sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. A renderlo noto è l'assessorato regionale alla sanità.